Come ti chiami? Maria Grazia, Sì Doni. Da dove vieni? Vengo da Milazzo, provincia di Messina. Cosa ci canti? Vi canto Un bacio è troppo poco di Mina. Vai! Un bacio è troppo poco per sapere se ti amo. Un bacio è troppo poco per capire veramente se mi piaci, se mi piaci, o invece è solamente simpatia, sia da parte tua che da parte mia. Strana. C'è un'imitazione di Mina? Ah sì? Sì, però, però strano, cioè nel senso, sembri Mina a volte, però in realtà, in realtà no. La dinamica, per esempio, così potete da pianissimo, questa è Mina, cioè nel senso, chi è che te l'ha insegnato? Però, nonostante tutto, c'è secondo me qualcosa di molto interessante, proprio anche un po' di fiabesco, mi piace di più quando canti piano, 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 perché sei precisa proprio nel piano, è difficile essere precisi cantando piano. Quando canti basso sei molto affascinante, controlli molto bene, prego. È antiquatissima. Ma è talmente antiquatissimo che potrebbe essere una cosa nuova, per cui devo dire che... Dico di sì. Dico sì, se può fare. Anche per me sì. Grazie. Complimenti. Grazie. Grazie. Ciao. Piena di grazia. E no, è... E piena di grazia, si chiama anche Maria. È andata bene, sono contentissima perché mi viene concessa l'opportunità di imparare, quindi è fondamentalmente questo quello che mi piace.